È prezioso, raffinato, sfavillante. Il Cabernet Sauvignon è un rosso importante che affascina con la sua potenza e le naturali sfumature. Noi coltiviamo questo vitigno nelle zone mite del lago di Garda, là dove il clima lo aiuta a esprimersi al meglio. Per il Cabernet Sauvignon Trentino d'Occa Castelfirmian, aspettiamo che l'uva maturi a lungo e possa raccogliere tutto il calore dell'estate e delle prime giornate autunnali. Sono proprio i primi giorni d'autunno a esaltare il tipico carattere trentino che ritroviamo nel bouquet del nostro Cabernet Sauvignon. Al naso offre un profumo complesso in cui spiccano la frutta rossa matura e il ribes nero. Si raggiungono poi le note balsamiche di eucalipto e foglie di tè che derivano dall'accurato affinamento in legno. Accompagna molto bene primi con sughi di selvaggina e secondi ricchi di carne rossa. Il nostro consiglio? Risotto ai fiegatini e filetto di manzo con riduzione di Cabernet Sauvignon.